ma voglio dire qualche altra cosa relativamente alla stampa beh a quale stampa beh mi riferisco a due testate in particolare perché io sono abituato a fare nomi e cognomi mi riferisco a buonasera taranto diretta da enzo ferrari e mi riferisco al quotidiano di taranto al suo caporedattore giovanni camarda io mi vorrei tanto sapere ritengo che la vostra sia una informazione certamente di parte è un'informazione di parte perché non è possibile che si parli di melucci dalla mattina fino alla sera si parli in abbondanza di musillo e della mia candidatura di taranto senza ilva che stando alle previsioni stiamo tra il 47 il 53 per cento bene al di là di queste previsioni che possono essere giuste sbagliate quello che sia dovreste imparare a dare a dare opportunità pari opportunità a tutti oggi ieri anzi ho mandato il comunicato stampa nel quale annunciavo il comizio nel quale presentavo sinteticamente i punti del programma signori cari un trafiletto dieci righe addirittura il quotidiano cosa fa scrive abate con una b un rigo e quattro quattro righe ma io dico soltanto una cosa che ho fatto il giornalista e sono stato sempre un uomo libero ho dato spazio a tutti ho dato spazio ai grandi partiti come ho dato spazio ai piccoli partiti avete dimostrato signori del quotidiano e di buonasera taranto di essere di parte perché essere di parte significa dare spazio a certe forze politiche anziché ad altre pensate un po buonasera taranto cosa fa fa una c'è una un'intervista fatta a melucci unico candidato sindaco che ha ricevuto un paginone tanto di intervista e l'intervista chi gliela fa alfredo venturini e chi è alfredo venturini il coordinatore di taranto mediterranea una delle liste a sostegno di melucci scusate ma questo è giornalismo o significa fare politica anziché fare giornalismo me lo spieghi me lo spieghino i colleghi di taranto buonasera lo voglio proprio sapere da te enzo ferrari intervista di venturini a a melucci e quando io chiedo ad enzo ferrari ma spiegami enzo perché questo quando ci sarà spazio per gli altri candidati ci sarà anche spazio a te ma scusami ma ma tu hai dato spazio a melucci sì melucci è un'altra cosa come un'altra cosa melucci è un candidato sindaco come tutti gli altri melucci è l'ex sindaco di taranto che non tornerà più a palazzo di città altro che melucci si atteggia a sindaco ma questi giornali sono evidentemente di parte io sapete cosa vi dico ognuno è libero di fare quello che crede qualunque cosa creda io questi giornali non li leggo ognuno di voi può leggerli o non leggerli e quando un giornale quando una cosa quando dei fogli di carta non mi servono io faccio questo questi giornali li strappo e non voglio buttarli a terra perché ho rispetto dell'ambiente ma quando si fa una cosa del genere significa calpestare la libertà significa calpestare l'informazione e lo dico perché sono un iscritto all'ordine in questa veste sto parlando da candidato e non da giornalista ma scusatemi si può limitare una forza politica a dieci righe e non per un giorno non per un giorno sono tre mesi tre mesi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti